La discoteca è finita e qualcuno dovrebbe farsene una ragione. Non so se sei d'accordo con questa affermazione perentoria, ma ti direi intanto di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato sui prossimi video. La discoteca, quel luogo dove si andava pagando il biglietto con una pista dal ballo, la musica, le luci, il bar, eccetera, che ha contraddistinto le serate e il divertimento per intere generazioni e che poi con il finire del secolo ci ha abbandonato per rimanere nei ricordi di tutti noi. Ecco, se si guardasse in faccia la realtà, questa dovrebbe essere la storia che raccontiamo e che ci raccontiamo. Invece molti continuano a portare avanti quello che si faceva un tempo come se funzionasse ancora oggi. Ecco perché c'è il bisogno anche adesso di un video che dica che la discoteca è finita, con buona pace di chi ci lavora, ci lavorava e che ci ha passato dei bei momenti. Però purtroppo non possiamo continuare a portare avanti dei format che avevano senso nei tempi che furono, ma che non hanno assolutamente più senso oggi. Ogni volta che vedo un cartellone con un ospite, un attore o un personaggio della televisione, un DJ da qualche parte muore. E non solo, ma anche un direttore artistico muore, perché quelle sono cose che potevano avere senso quando tutto il mondo girava in maniera completamente diversa, nell'era pre-internet, quando la musica si ascoltava in un certo modo, quando le abitudini delle persone erano completamente diverse dalle attuali. La discoteca incarna un momento ben preciso nella storia e rimane cristallizzato lì. E ora non facciamo che vivere per inerzia certe abitudini e certe consuetudini. Perché la discoteca è finita? Il discorso è molto lungo e complesso. Sono cambiate le abitudini delle persone, sono cambiati i locali, le frequentazioni, i momenti della giornata, della serata e della settimana. È cambiata la musica, sono cambiati gli spettacoli. Tutte queste cose si sono evolute nel corso del tempo. La discoteca nasce con i primi anni settanta, dall'evoluzione di quelli che erano i dancing e le sali da ballo nei decenni precedenti. Nasce come luogo per i giovani, per i giovanissimi, per poi svilupparsi nel corso del tempo ad abbracciare varie fasce d'età e dimenticandosi piano a piano di questi giovani. Chi sono gli imprenditori della discoteca? Perché non ne nascono di nuovi? Questi sono tutti interrogativi interessanti. E noi che facciamo i DJ dobbiamo porci questo problema, questa questione, perché dobbiamo decidere se lavorare in determinati contesti oppure no, o almeno come farlo. Il dato a livello europeo, neanche italiano, è che una discoteca su due negli ultimi dieci anni ha chiuso. Ok, sono nati locali nuovi, ma sono molto più quelli che hanno chiuso i battenti. E questo è un processo generalizzato a livello europeo che sembra inesorabile, ma anche giustamente mi viene da dire. Cos'è che rendeva la discoteca così speciale e che non lo è più? Di cosa dovremmo parlare attualmente invece di ricevere continuamente notizie, informazioni, eventi con la presunta novità della stagione, quando in realtà sì, non si fa che rivogare soliti nomi e soliti concetti, semplicemente rimescolando il solito brodo. La discoteca non è più quell'appuntamento esclusivo tanto atteso come lo era in passato, non è più l'alternativa migliore per i nostri venerdì o sabati sera, non è più il momento per chi vuole andare a divertirsi o per chi vuole conoscere persone. La discoteca è una delle possibilità che rimane schiacciata da quelle sono le vere tendenze degli ultimi anni, ovvero i piccoli club da un lato e i grandi eventi dall'altro. La discoteca non è che l'ombra di se stessa negli ultimi tempi. Questo perché nel momento di andare a scegliere non c'è quel bisogno di andare in discoteca per sentire la musica, per incontrare le persone, per divertirsi, per concludere la serata. Nell'andare a scegliere cosa fare la discoteca è una delle possibilità schiacciate da molte altre. Ecco che i titolari molto spesso sono soliti lamentarsi che si può fare discoteca anche in ambienti che non hanno quelle caratteristiche, non hanno quelle esigenze tecniche, giuridiche, burocratiche eccetera. Dall'inizio degli anni 2000 si è introdotta la scena in discoteca e allora la concorrenza della discoteca è diventato il ristorante, il ristorante con musica, i locali ibridi, ma se la discoteca rincorre quel tipo di ambienti lì ha perso completamente il suo ruolo centrale nella nightlife. Laddove si introduce la cucina, il menù, la cena spettacolo, ecco che diventa tutta un'altra cosa, tutto un'altro ambiente. Un tempo c'erano le discoteche con più sale, con più ambienti, con più stili musicali, ma la storia poi ha portato questi posti a chiudere perché a nessuno piace trovarsi in fila con persone completamente diverse da sé, con dei gusti completamente diversi. Di conseguenza non puoi mettere nello stesso luogo persone, stili di vita completamente incompatibili. Allora ognuno si va nel suo piccolo spazio facendo in modo che i grandi locali, i grandi punti aggregativi chiudano perché sono costretti a dare una sola proposta che vada bene più o meno per tutti. E allora non ha senso avere più sale se la musica è la stessa, se la situazione è la stessa. Ognuno cerca ambienti più specifici al posto dei grandi contenitori. Sempre meno persone sono disposte a fare tanti chilometri per andare in un posto perché ci sono tante opzioni nel percorso, nel mezzo. E così i grandi punti aggregativi, i grandi punti di attrattiva per intere aree geografiche, regioni, eccetera, finiscono per perdere la propria centralità. Non ne vale più così la pena di andare in discoteca, non è più così indispensabile. Questi sono gli argomenti, gli elementi di riflessione, gli spunti su cui avviare il dibattito o su cui esprimere le proprie opinioni. Anzi, mi farebbe sapere cosa ne pensi nei commenti. Quello che non si può fare, non è proprio più concesso, è credere di essere ancora negli anni 90, quando la discoteca era il centro di tutto, quando la musica da discoteca, chiamata proprio così, era anche la musica che sentivamo continuamente. Adesso la musica da discoteca fondamentalmente non esiste più, così come non esiste più la discoteca per come siamo abituati a conoscerla. Poi, che sia un bene o un male, dipende ognuno dal proprio giudizio, però non possiamo costringere la storia e l'attualità a quelli che sono i nostri gusti e i nostri sogni. Fammi sapere cosa ne pensi e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.